La città di Gualdotadino si prepara a celebrare un appuntamento storico come il settimo centenario della morte del beato Angelo da Casale. Martedì 18 luglio, nella sala consigliare del municipio, è stato presentato il comitato che si è costituito per organizzare i festeggiamenti per i 700 anni dalla morte del protettore della città e del comune di Gualdotadino. Il comitato, attraverso molteplici iniziative religiose, culturali e sportive, intende perseguire la forte volontà di unione nel nome del protettore della città. Le celebrazioni prenderanno il via il 14 gennaio 2024 con i primi vespri della festa e con la fiaccolata che dall'eremo di Capodacqua passerà a Casale, San Lazzaro, Biancospino e giungerà in cattedrale. Si chiuderà il 15 gennaio 2025 con la stessa fiaccolata che accompagnerà di nuovo in cattedrale l'effigie del beato come 700 anni fa. L'evento centrale è in programma per il 1 settembre 2024, quando le spoglie del beato Angelo usciranno dalla cripta per tornare tra le vie della città. Per tutto l'anno sarà inoltre aperta la porta santa del centenario e sarà possibile avere l'indulgenza. Condivido l'accento dato a questo evento epocale, ha sottolineato il vescovo Monsignor Domenico Sorrentino nel suo intervento, che si inserisce in un momento davvero storico per la nostra società, caratterizzato da una pesante crisi di valori e di relazioni. Auguro a questa città, alla nostra chiesa e alla nostra comunità di vivere questo centenario per tornare a Gesù, grazie all'intercessione del beato Angelo. Grazie. Grazie.